Salve cari amici sono Fernando Candiotto e vi parlo dalla città di Prato in Toscana Italia per continuare oggi con questo ciclo intitolato Metafisica Cristiana e il tema della lezione di oggi come vedete sullo schermo è Adamo ed Eva oggi parleremo sul significato metafisico di questa storia di questi personaggi secondo la Bibbia secondo la genesi della Bibbia il primo uomo è la prima donna e vi ricordo la bibliografia raccomandata per questo corso la osservate sono i libri pilastri della metafisica e risolvi i tuoi problemi il primo di Ruben Cedegno il secondo invece di Emmet Fox il primo maestro di metafisica di Coni Mendes e potete trovare questi libri in formato ebook sulla nostra pagina facebook e anche su questa pagina facebook il link di collegamento per acquistare se volete se siete interessati i libri in formato cartaceo su amazon.it ma prima prima di iniziare proprio con l'argomento della lezione di oggi voglio annunciarvi una notizia che per me è molto grata sono lieto di annunciarvi il ritorno delle elezioni presenziali con il favore di dio sabato prossimo 23 ottobre ci sarà un incontro alla sala dell'hotel Eurostars in via nazionale 46 a Roma e come sapete ovviamente le autorità sanitarie richiedono in questi casi di esibire il green pass e anche l'uso della mascherina ed essendo limitata la capacità della sala vi chiediamo di iscrivervi assicurando in quel modo la vostra presenza alla lezione di metafisica in modo che tutti gli studenti desiderosi di partecipare a questa o incontro a questa attività possano farlo sì vi ricordo sabato prossimo 23 ottobre dalle 17 fino alle 19 più o meno l'informazione e iscrizione su whatsapp 344 135 6444 o anche potete inviare un messaggio privato sulla nostra pagina facebook molto bene ricordiamo un po gli argomenti che abbiamo trattato durante le lezioni precedenti ricordiamo che dio creò l'uomo a nostra immagine a sua immagine e somiglianza cioè l'essere umano è stato creato da dio perfetto e essendo immagine e somiglianza di dio siamo anche noi creatori e come crea dio dio crea attraverso il potere della parola il potere della parola che è l'espressione verbale del pensiero e del sentimento quindi pensiero sentimento parola sono il potere del decreto il potere creatore e anche noi gli esseri umani attraverso i nostri pensieri sentimenti e anche i nostri decreti creiamo il mondo in cui abitiamo noi siamo i creatori del nostro stato di saggezza o ignoranza di felicità o infelicità o depressione il nostro stato di ricchezza o pulenza o povertà anche del nostro stato di salute o malattia ma ovviamente quando siamo venuti per prima volta all'incarnazione sul piano fisico abitavamo in un paradiso terrestre perché dico ovviamente perché la volontà di dio ricordate questo la volontà di dio sempre è il bene è il massimo bene per i suoi figli per la sua creazione non è la volontà di dio che ci siano incidenti malattie apparenze negative noi siamo venuti a un paradiso terrestre questo paradiso terrestre è uno stato di coscienza interno idilliaco pieno di bontà bellezza armonia felicità prosperità e pace che può essere anche una realtà esterna o fisica oppure una realtà interna o entrambe e non serve morire per stare lì cioè vivere in paradiso è possibile quando si ha un atteggiamento positivo davanti a ogni circostanza della vita quando abbiamo un atteggiamento mentale positivo emozionale positivo di amore di pace di armonia di tranquillità di tolleranza verso gli altri quando nostre parole sono positive anche e non stiamo criticando dicendo cose brutte perché ciò che tu dici è un decreto che si manifesta nel mondo fisico stai attirando verso di te ciò su cui stai parlando quell'argomento su quale stai parlando per fornire all'essere umano il necessario dio creò i frutti e le piante da nutrirlo e anche animali affinché accompagnassero l'essere umano e quindi l'essere umano non aveva bisogno di stancarsi per ottenere ciò che richiedeva in questo passaggio il la genesi ci sta spiegando un po qual è la volontà di dio sta facendo un racconto di qual sarebbe il nostro piano divino di perfezione che il nostro lavoro sia il nostro hobby avere tutto ciò che ci serve dal punto di vista fisico per mangiare abitare comodamente in una bella casa un bel appartamento una villa perché no avere la nostra macchina per viaggiare andare al lavoro all'ufficio eccetera quello è il nostro piano divino di perfezione e perciò gesù ci dice di non angogiarvi chiedendo cosa mangeremo che cosa berremo che cosa indosseremo perché dio prima dalla nostra nascita ha pensato tutto ha previsto tutto tutto quello esiste c'è nel nostro corpo causale nella nostra coscienza spirituale e quando la necessità sul piano fisico apparve semplicemente quella necessità scarica dal nostro corpo causale dal nostro corpo causale e il bene la cosa la saggezza ante l'energia necessità che necessitiamo di cui abbiamo bisogno e se apparentemente non appare soltanto dobbiamo decretarla per esempio amata presenza di dio io sono scarica dal mio corpo causale tutti i soldi di cui ho bisogno o tutto il cibo o questa macchina che mi serve in questo momento anche la genesi ci spiega che l'essere umano è stato creato con il potere di dominare la creazione i versetti che parlano di questo dicono e domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo sul vestiame su tutte le bestie selvatiche e su tutti i rettili che strisciano sulla terra dominare nel senso significa in questo passaggio della della bibbia governare governare che cosa governare i tre mondi i tre piani di manifestazione in cui si svolge la vita dell'essere umano che ovviamente il piano fisico noi abbiamo un corpo fisico di carne e osa che ci permette di muoverci contattare attraverso i cinque sensi le cose le persone la vita che si manifesta fisicamente ma anche abbiamo delle emozioni dei sentimenti e abbiamo infatti un corpo emozionale chiamato anche corpo astrale che ci permette di esprimere emozioni sentimenti qual è un altro piano e un terzo piano è il piano della mente il piano mentale il piano dei pensieri delle idee della ragione del buon senso gli uccelli dell'aria rappresentano il mondo mentale i pesci del mare il mondo emozionale e le bestie della terra e gli animali striscianti il mondo fisico sempre sempre come vedremo durante tutto il nostro studio della bibbia il mare o l'acqua rappresenta il mondo emozionale l'aria rappresenta il mondo mentale a volte anche il mondo spirituale in questo caso gli uccelli dell'aria sono i pensieri spirituali e il mondo fisico scusatemi la terra raffigura la manifestazione fisica visibile tangibile ciò che si può toccare bene andiamo avanti e proprio parliamo su Adamo e Eva Adamo e Eva simboleggiano l'intera umanità creata come specie in uno stato di innocenza e purezza Adamo rappresenta la parte fisica ed Eva invece la parte emotiva secondo la bibbia Adamo e Eva furono i primi due esseri umani dal punto di vista materiale ovviamente sono simboli del primo uomo e la prima donna o dell'aspetto maschile e femminile dell'essere umano stiamo parlando un po' del principio di polarità ricordate che Dio crea l'essere umano alla sua immagine e somiglianza maschio e femmina ciò vuol dire che Dio è maschio e femmina padre e madre positivo e negativo in senso fisico diciamo non negativo parlando di cose brutte ma in accordo con l'interpretazione metafisica della bibbia Adamo l'uomo rappresenta il corpo fisico invece Eva rappresenta il corpo emozionale cioè dentro di noi ci sono Adamo ed Eva Adamo il corpo fisico la materia fisica carne e ossa e invece Eva è la nostra natura emotiva la nostra natura emozionale bene andiamo avanti Adamo è l'archetipo della parte fisica di ogni essere umano nello stato di assoluta perfezione come è stato creato da Dio ognuno di noi ha un archetipo fisico che si trova nel nostro Cristo interno sostenuto dal nostro Cristo interno dentro il corpo causale quell'archetipo è perfetto e quando sul livello mentale ed emozionale non c'è nessun pensiero nessun turbini non sono dei turbini mentali negativi quell'archetipo si riflette nel piano fisico quel riflesso dell'archetipo perfetto dell'essere umano nel piano fisico è raffigurato da Adamo e noi bene state guardando una statua di Adamo che si trova in un centro commerciale a New York vicino a Columbus Circle l'artista, il famoso scultore e artista plastico Fernando Botero non posso dire che proprio questo Adamo sia un archetipo di perfezione fisica ma comunque quando non si sta manifestando possiamo invocare, decretare la perfezione bellezza, gioventù e salute del nostro corpo decretiamo insieme io sono la resurrezione e la vita della perfetta salute, gioventù e bellezza del mio corpo fisico grazie padre Eva Eva rappresenta nell'essere umano le emozioni ciò che spinge a desiderare a volere, a sentire è il corpo emozionale Eva che stimola il corpo fisico Adamo perché il corpo fisico cioè Adamo da solo non si muove non fa nulla ciò che stimola il corpo fisico a fare un movimento sono le emozioni il corpo emozionale per esempio gli animali noi esseri umani che abbiamo non soltanto corpo fisico ma un corpo emozionale cioè abbiamo desideri siamo in grado di muoverci abbiamo sviluppato la capacità di muoverci invece le piante le rocce i minerali che ancora non hanno sviluppato un corpo di desideri non sono in grado ancora di fare questo e quella capacità di muoverci che offre il corpo emozionale l'emozione viene rappresentata da Eva quando desideriamo cose che non abbiamo soffriamo esorge la tentazione simboleggiata dal frutto proibito che cosa vuol dire che sebbene il desiderio i sentimenti ci permettono di tante cose buone quando come muoverci per esempio fare cose positive quando i desideri o i sentimenti sono negativi brutti egoistici soprattutto anche ci portano al conflitto la sofferenza e subito parleremo su questo argomento rappresentato dal dal frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male Dio creò l'essere umano in un perfetto stato di felicità ma lo avvertì afferma la Genesi ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare perché quando tu ne mangiassi certamente moriresti che cosa vuol dire questo l'albero della conoscenza del bene e del male rappresenta l'immischiarsi nella dualità nel conflitto o nella qualificazione nel bene e nel male essere in confronto e questo rappresenta un conflitto sempre qual è il frutto dell'albero del bene e del male mangiare quel frutto e usare i poteri creatori dell'essere umano sia per creare il bene ma anche per creare il male ricordate Dio creò l'essere umano alla sua immagine e somiglianza siamo stati creati con il potere di generare delle cose attraverso il pensiero il sentimento e la parola ma Dio avvertì l'essere umano di non creare cose negative non entrare nella dualità del bene e del male perché quello lo avrebbe portato alla sofferenza cioè alla morte la morte di che cosa? la morte anche fisica la malattia la morte a quello stato di coscienza di perfezione rappresentato dal paradiso terrestre pensare il conflitto e il negativo ci porta al rifiuto e rifiutare significa conflitto bene questa è una semplice immagine raffigurante l'albero della conoscenza del bene e del male il tronco dell'albero rappresenta l'equilibrio della via di mezzo insegnata dal signor Gautama non so se ricordate ma abbiamo studiato uno o due anni fa durante il corso non soffrire più parte dell'insegnamento del signor Gautama il nobile il nobile ottoplice sentiero o le quattro nobili verità e il nobile ottoplice sentiero o le otto atteggiamenti positivi potete approfondire su questi argomenti con i libri non soffrire più e anche con il libro pilastri della metafisica il tronco dell'albero della conoscenza del bene e del male è la via di mezzo cioè l'equilibrio l'armonia la pace interiore rimanere in equilibrio senza attaccarci a niente e senza respingere senza rifiutare nulla ma mangiare il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male che voi trovate in un albero dei frutti a sinistra a destra davanti dietro al centro sempre il tronco l'equilibrio ma i frutti sono qui e là e quello simboleggia qualificare negativamente l'energia sia con sentimenti di odio invidia timore depressione orgoglio anche ritenersi superiore agli altri confrontare giudicare condannare pensare alla malattia alla povertà vivere nel conflitto della vita ogni volta che tu provi rifiuto verso qualcosa verso qualcuno c'è un conflitto non voglio dire che tu devi accettare qualcosa di negativo no infatti noi in metafisica impariamo a non accettare quello che non è perfetto quello che non è la volontà di Dio ma quando parlo di rifiuto parlo di rifiuto sul livello emotivo emozionale provare angoscia provare timore provare odio significa rifiutare qualcuno qualcosa una situazione e quello è conflitto quello è sofferenza perché nessuno può essere felice e odiare cioè odiare e sentire felicità allo stesso tempo è impossibile non si può essere felice mentre si prova invidia mentre si prova gelosia perché perché la gelosia l'invidia ha almeno un po' parte del suo contenuto è rifiuto gelosia o timore può essere timore rifiuto alla possibilità di perdere quella persona o qualcosa per cui proviamo attaccamento pensiamo sia della nostra proprietà odio è ovviamente rifiuto verso una persona una situazione ciò che è l'oggetto del nostro sentimento di odio e quello non è ovviamente non è possibile provare allo stesso tempo amore pace armonia oppure felicità e quando siamo attaccati accade lo stesso perché magari siamo felici stiamo provando amore condividendo qualcosa di bello con un amico con un essere amato stiamo godendoci di un benessere materiale ma l'attaccamento l'attaccamento porta prima di tutto al timore la paura di perdere l'oggetto del nostro attaccamento quindi capite persino quando le cose sono belle e buone se noi ci permettiamo di attaccarci di solito lo facciamo quasi automaticamente per ignoranza per mancanza di osservazione alla fine quell'attaccamento ci porta allo sviluppo di sentimenti negativi di rifiuto perciò Krishna parlando nella Bhagavad Gita ci dice tu hai il diritto di compiere i tuoi doveri ma non di godere dei frutti dell'azione non considerarti mai la causa dei risultati delle tue attività sfortunati sono coloro che lavorano desiderando risultati per le cose che fanno e sono attaccati al frutto dell'azione il frutto dell'azione cioè il frutto delle nostre attività quando tu provi attaccamento a quello quello causa di sofferenza per esempio hai fatto un servizio hai aiutato qualcuno hai comunicato un insegnamento spirituale e stai aspettando siano degli applausi del riconoscimento altrui e non li ricevi se non ricevi ciò che tu aspettavi provi sofferenza anche una mamma un padre aspetta di solito dei frutti delle azioni di allevare e proteggere i suoi figli aspetta che quando questi figli siano adulti siano grandi uomini persone prospere o forse intelligenti o almeno amorevole nel suo rapporto con i suoi genitori ovviamente naturalmente dovrebbero almeno essere amorevoli e riconoscenti generosi con i suoi genitori ma dobbiamo mantenerci staccati del frutto dell'azione cioè non provare attaccamento al frutto dell'azione non aspettarlo quello è causa di sofferenza quello è mangiare del frutto dell'albero del bene e del male appare il serpente il famoso serpente che è la tentazione il serpente dice a Eva come tante persone a volte si avvicinano e ti dicono qualcosa del genere il serpente dice a Eva Dio sa che nel giorno in cui voi mangerete del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male vi si apriranno gli occhi e sarete come Dio conoscitori del bene e del male è terribile questo serpente terribile Adamo e Eva erano tranquilli ignoranti sicuramente puri con quella innocenza dei bambini ma quell'ignoranza a volte porta il seme della curiosità e questa serpente approfitta della curiosità dell'ignorante e dice quello che vi dice Dio non è vero non è così in realtà se voi mangiate di quel frutto dell'albero del bene e del male sarai così potente come Dio e cosa fanno questi uomini mangiare ovviamente il frutto il serpente arrotolato nell'albero del bene e del male simboleggia la tentazione la curiosità l'inizio e la fine delle sofferenze del desiderio è stata proprio la curiosità la causa della caduta dell'umanità nell'antichità infatti l'essere umano puro innocente osservando sapendo intellettualmente della possibilità di usare il potere mentale in un altro modo che non sia d'accordo la volontà di Dio prova vediamo che cosa accade magari non accade nulla di negativo infatti nemmeno capiva che cosa sarebbe stata una situazione negativa e prova quella è la curiosità è la curiosità che a volte osserviamo tra i bambini noi genitori quando abbiamo un bambino piccolo voi sapete dite al bambino che non faccia qualcosa e vedrai come tenterà subito di farlo la curiosità e ovviamente voi i suoi state prendendovi cura del bambino ma lui preferisce di seguire quel desiderio di soddisfare la curiosità provare che cosa accadrà è quella la situazione psicologica in cui si trovavano Adamo ed Eva anche il serpente a volte è quella persona che viene a parlarti male del facilitatore o di qualcuno del tuo marito della tua famiglia di un dipendente della tua azienda per turbarti per condizionarti viene a parlarti negativamente per condizionarti allontanarti di quella persona seminare il rifiuto dentro di te ok ci sono due serpenti due serpenti che troviamo non soltanto nella Bibbia ma in quasi in tanti racconti della mitologia greca come vedremo anche della mitologia orientale questi due serpenti sono il serpente della materia e il serpente dell'illusione nella Bibbia appaiono diversi serpenti per esempio il serpente nel giardino di Eden di cui abbiamo parlato il drago nell'apocalisse il drago è un altro simbolo sia drago sia serpente più o meno il simbolismo lo stesso l'illusione della materia è anche l'illusione emozionale e mentale effetto dell'ignoranza il serpente il serpente della materia è simbolo della credenza che il corpo è il vero sé che il mondo materiale è l'unica realtà e che quella realtà materiale è permanente la gente che crede soltanto alla materia soltanto a ciò che può vedere e perciò pensa che l'oggettivo più alto della vita sia accumulare denaro accumulare tesori nel piano fisico quella persona è sotto l'influsso del serpente della materia l'altro è il serpente dell'illusione simbolo dell'ignoranza dei sette principi universali dell'ignoranza che Dio è la totalità della vita e credere che siamo esseri separati dall'essere universale quell'ignoranza è l'altra serpente è l'altro serpente e infatti quando arriviamo per prima volta all'insegnamento spirituale cominciamo ad eliminare ma calpestare quel serpente dell'ignoranza che fino a quel punto è stato un influsso che ci ha portato a grandi sofferenze osserviamo in questa immagine la madre Maria la vergine calpestando il serpente sia dell'ignoranza che della materia il piccolo Ercole era ancora addormentato nella culla quando uccide strangola i due serpenti e dopo essendo adulto una delle sue fatiche è stata infatti uccidere l'idra di Lerna simbolo di tutte le illusioni che portano all'essere umano alla sofferenza ma c'è un terzo serpente che è il serpente della saggezza non appare così tanto nella Bibbia credo che non appaia infatti nella Bibbia neanche nel simbolismo della spiritualità occidentale invece in Oriente si è molto conosciuta questa serpente si presenta quando le altre due sono state eliminate per esempio troviamo i serpenti nella corona di Vishnu Vishnu che è la seconda persona della trinità dell'induismo nel Sanatana Dharma cioè rappresenta il Cristo cosmico il figlio divino che è la fiamma dorata cosmica o la saggezza cosmica la sua corona sono cinque o volte sette serpenti il re dei serpenti ci racconta la leggenda protesse il signor Gautama Buddha durante la sua meditazione il re dei Naga che sono i serpenti della saggezza ovviamente questa saggezza questa serpente rappresenta anche l'energia Kundalini che è salita fino all'ultimo chakra il chakra superiore il Sahasrara chakra il centro di coscienza ed energia più alto nel nostro corpo eterico in questi giorni parleremo un giorno sui sette chakra nella corona dei faraoni questo serpente simboleggia il Sahasrara chakra aperto bene continua il racconto della genesi dicendo che dopo che Adamo ed Eva mangiarono il frutto dell'albero del bene e del male si aprirono gli occhi di tutti e due e si accorsero di essere nudi che cosa significa essere nudi se si sentirono nudi erano nudi da prima così erano stati creati da Dio ma in quel momento si resero conto di essere nudi quando una persona si sente nuda si sente indifesa e il sentimento di essere indifeso ci porta al timore la paura e il timore la paura al rifiuto a nascondere ci porta al conflitto alla dualità a quel sentimento di separazione da Dio che provarono Adamo ed Eva ecco quando quello accade loro si stanno cacciando da se stessi dal paraíso terrenale dal paradiso terrestre che terribile ponendo l'attenzione e identificandosi con la cattiveria inizia ad attaccarsi il negativo e si esce dal paradiso terrestre per vivere nella lotta della vita possiamo affermare io non sono sul piano della lotta di nuovo io non sono sul piano della lotta che cosa hanno fatto Adamo ed Eva mettere l'attenzione fissare l'attenzione sul negativo quello attira verso di noi prima il sentimento di mancanza di protezione di sentirci indifesi quello è il sentirsi nudo come ci spiega la genesi ci porti il sentimento di paura di soffrire siamo salutari ma stiamo sentendo pensando parlando su malattie e dopo 5 minuti 10 minuti i nostri sentimenti provano una grande angoscia una grande paura se quel sentimento viene alimentato alla fine si manifesterà il pensiero e il sentimento di malattia come una apparenza fisica di malattia gli tolgo potere ma quello è cacciarsi da se stesso dal paradiso terrestre e Dio disse ecco l'uomo è diventato come uno di noi per la conoscenza del bene e del male guardiamo che egli non stenda la mano e prenda anche del frutto dell'albero della vita ne mangi e viva per sempre sentite bene questi versetti della Genesi parla di un altro albero ci sono due alberi l'albero del frutto del bene e del male e l'albero della vita quell'albero della vita è anche l'albero della saggezza perché preoccupato Dio sembra preoccupato Dio in quel punto perché la saggezza e anche la conoscenza che conduce alla sapienza non può cadere nelle mani di chi la vizierà di quella persona che farà un uso cattivo di quella conoscenza perché potrebbe fare disastri infatti ciò accadè migliaia di anni fa in un continente conosciuto come Atlantide dell'Atlantide parla Platone nelle sue opere gli abitanti di Atlantide avevano certa conoscenza anche potremmo dire spirituale non avevano la realizzazione la consapevolezza ma sì la conoscenza e usarono cattivamente con oggettivi egoistici quella conoscenza e generarono un karma negativo così grande che quando tornò indietro si rivolsi sopra lui portò la distruzione di tutto un continente si cacciarono via dal paradiso terrestre per questo la sapienza protegge sempre se stessa è quello il significato di questo versetto della Bibbia quando dice Dio guardiamo che egli non stenda la mano e prenda anche del frutto dell'albero della vita ne mangi e viva per sempre quell'albero della vita lo osserviamo anche nel racconto mitologico delle fatiche di Ercole è l'albero della saggezza che dà i frutti nel giardino degli esperidi e questi frutti sono delle mele d'oro che rappresentano la saggezza è infatti una delle fatiche la terza fatica di Ercole è prendere delle mele d'oro di questo albero che nasce nel giardino delle speridi ed è che è protetto infatti da un serpente o da un drago di cento teste ma questo serpente questo drago è simbolo in realtà è la terza è il terzo serpente il serpente della saggezza che si prende cura dell'albero della vita dell'albero della saggezza in modo che soltanto gli esseri che siano in grado che abbiano la purezza necessaria possano prendere e usare quella conoscenza anche l'albero bo l'albero bo sotto cui si illuminò il signor Gautama Buddha e dove apparve anche il re dei nagas o il re dei serpenti di saggezza della saggezza per proteggerlo vediamo che vediamo che entrambi gli alberi sia l'albero della saggezza del giardino degli esperidi o sia l'albero bo vengono accompagnati da un serpente ma un serpente che è il serpente della saggezza cacciata dal paradiso perciò Dio scacciò l'uomo dal giardino di Eden e vedremo cosa fece che cosa significava essere cacciato dal paradiso vedete quasi il primo che Dio dice ad Adamo ed Eva è mangerai il pane con il sudore del tuo volto e anche afferma che proveranno timore vergogna malattia dolore fisico scarsità povertà qualcuno potrebbe dire ma questa è una punizione troppo grande da Dio perché Dio fa quello se Dio tu mi dici che la sua volontà è il bene e la perfezione sì in questo caso quando si parla di Dio in realtà Dio vuol dire la legge il principio spirituale un principio spirituale è una legge che si compie sempre sempre si manifesta e non può cambiare non può mutare mai come per esempio nel piano fisico la legge di gravità quello è Dio e che cosa accade Adamo ed Eva usando negativamente il pensiero il sentimento il potere della parola provando assaggiando il frutto dell'albero del bene e del male si cacciano da sé da soli dal paradiso terrestre e si condannano a mangiare il pane con il sudore della frente a mangiare il timore mangiare del frutto della vergogna mangiare del frutto della malattia eccetera eccetera perché come parlavamo prima è impossibile impossibile trovare rifiuto quando parlo di rifiuto dico timore odio vergogna depressione autocommiserazione ed essere felici quando tu sei felici tu abiti il paradiso terrestre ma invece quando provi il rifiuto ti stai cacciando automaticamente continua la genesi dicendo pose a oriente dio dio pose a oriente del giardino di eden i cherubini che vibravano da ogni parte una spada fiammeggiante per custodire la via dell'albero della vita state osservando questo pavimento bellissimo il pavimento della chiesa di san michele arcangelo ad anacapri nell'isola di capri in italia un'opera di arte fantastica venti anni fa ho avuto la possibilità quando ero per prima volta in italia di conoscere questo luogo con ruben cedegno e trovare questo pavimento maionicato che raffigura il paradiso terrestre e osserviamo sotto le figure di adamo ed eva e un angelo che porta una spada fiammeggiante un querubino dell'arcangelo dell'esquiera angelica dell'arcangelo michele cacciando adamo ed eva dal paradiso questo viene raccontato lo osservate qui meglio vedete vedete l'angelo che porta nella mano destra la spada fiammeggiante ma che cosa riguarda noi questo passaggio che anche noi possiamo assumere l'atteggiamento dell'arcangelo michele ed espellire cacciare dalla nostra coscienza e dal nostro mondo atteggiamenti e azioni fisiche dannose grossolane violente parole offensive volgari e la cosa ancora più importante allontanare dalla nostra mente sentimenti brutti odio invidia gelosia depressione autocommissione inserazione e pensieri di separazione di tradimento noi dobbiamo essere consapevolmente l'azione dell'arcangelo michele allontanando espellendo dalla nostra mente e dal nostro mondo emozionale queste creazioni negative questi pensieri sentimenti abiti parole negative la spada la spada fiammeggiante è in pensiero forma dell'arcangelo michele il simbolo dell'arcangelo michele in realtà in realtà il suo modello elettronico e noi possiamo invocarla visualizzare come prendiamo con la mano destra una spada fiammeggiante di fuoco azzurro e scongiurare il male affinché scompaia si può fare in questo modo tu chiudi i tuoi occhi prendi con la tua mano destra la spada fiammeggiante di fiamma azzurra e fai il segno della croce o un segno più prima la linea orizzontale e dopo quella verticale che stai facendo stai facendo il segno più positivizzando o crocificando il negativo e affermi spada azzurra dell'arcangelo Michele talia e libera talia e libera talia e libera questa sofferenza adesso lo faccio in modo che possiate vederlo spada azzurra dell'arcangelo Michele talia e libera talia e libera questa sofferenza adesso in questo bellissimo affresco che trovate a Palazzo Farnese a Roma osserviamo questa raffigurazione proprio dell'universo manifesto al centro Dio la luce diverse schiere angeliche intorno a Dio come creando sfere concentriche di luce ma al confine di questo cerchio nella frontiera tra la luce e le tenebre troviamo l'arcangelo Michele e la sua schiera angelica portando ogni angelo una spada fiammeggiante una spada di fuoco azzurro e in lotta con i demoni quelli demoni che cosa rappresentano il male il serpente la tentazione l'ignoranza l'illusione della materia l'illusione dell'ignoranza di ignorare i principi universali gli aspetti di Dio la realtà dell'unità di tutta vita noi dobbiamo assumere l'atteggiamento dell'arcangelo Michele e allontanare cacciare via dalla nostra mente dal nostro mondo interiore il negativo e anche a volte dobbiamo cacciare qualche persona che vuole portare alla nostra vita o si trova molto vicino a noi e sta creando disordine caos faremo ora questa affermazione tutti insieme con questo atteggiamento nel nome della divina presenza di Dio io sono dico ad ogni pensiero sentimento e abitudine negativa fuori da qui ti tolgo potere amato arcangelo Michele taglia e libera taglia e libera taglia e libera talia 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 e libera ogni condizione umana imperfetta in me nel mio lavoro nella mia casa nel mio gruppo di metafisica e fa che scompaia per sempre nel nome della divina presenza di Dio io sono dico ad ogni persona negativa con odio risentimento atteggiamento di separatismo e tradimento e tradimento ti tolgo potere fuori dalla mia vita amato arcangelo Michele tali è libera 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 ogni legame con quella persona e portala fuori dalla mia vita dal mio mondo. Grazie Padre. Ci avviciniamo alla fine di questa lezione e parleremo durante i prossimi minuti su Caino e Abele. Caino e Abele, come sapete, erano i figli di Adamo ed Eva. Loro rappresentano la lotta tra la luce e le ombre, un conflitto che si manifesta quando due comandamenti fondamentali della Genesi non vengono rispettati, che sono mettere Dio in principio, cioè mettere Dio al primo posto e decretare sia la luce di fronte alle ombre e al male, ciò che abbiamo imparato all'inizio di questo corso. Ricordiamo che Adamo ed Ebba ebbero questi due figli, Caino ed Abele, dopo essere stati cacciati dal paradiso terrestre. Quello significa che Caino ed Abele sono i figli, cioè gli effetti che si manifestano dopo che Adamo ed Ebba hanno mangiato il frutto dell'albero del bene e del male. Cioè sono la conseguenza della qualificazione negativa dell'energia. Che cosa simboleggiano Caino ed Abele? Lo vedremo subito. Caino rappresenta la polarità negativa, distruttiva e competitiva. Era agricoltore, simbolo dell'attaccamento alla terra, alla materia, in questo caso alle ombre. La terra, terra nel linguaggio biblico della Bibbia, nel simbolismo metafisico della Bibbia, è simbolo di manifestazione. Terra è manifestazione fisica, visibile, ciò che si può toccare. Quindi Caino era un uomo attaccato, lavorava alla terra, era un uomo attaccato al materiale che soltanto pensava ai frutti fisici, ai frutti materiali, cioè attaccato al frutto dell'azione. Perciò Dio rifiutava le offerte di Caino, perché erano frutto della materialità. Tutto era esterno, depiribili, aveva inizio e avrebbe avuto fine anche. Caino o la materialità è sinonimo per esempio di vivere per accumulare denaro, fama, potere sia politico che economico, anche vivere soltanto per una persona, per una coppia, per una... per la famiglia. Queste cose non sono negative, infatti possono essere molto positive. Ma vivere soltanto per il materiale quello non va bene, perché alla fine il materiale è temporaneo e se tu soltanto pensi al materiale alla fine proverai una grande sofferenza, perché tutto verrà perduto. Siamo arrivati a questo piano fisico, siamo nati da soli, nudi e torneremo all'aldilà, faremo questo passo, la disincarnazione, anche chiamata morte, da soli, senza portare con noi nulla. A cosa serve pensare soltanto al materiale? Ciò rappresenta Caino. Invece Abele simboleggia la polarità positiva costruttiva, la luce. Era un pastore simbolo del saggio che guida, insegna e aiuta. E infatti Abele è il primo pastore che troviamo nella Bibbia. Ma dopo, per esempio, ricordate, Gesù verrà chiamato il buon pastore. Si chiamerà se stesso, io sono il buon pastore. In altri racconti, per esempio, nelle fatiche di Ercole, nella sua ultima fatica, Ercole è anche il buon pastore che si prende cura delle sue vacche in quel caso. Nel caso di Gesù o nel caso di Abele, si prendono cura dei suoi agnelli. E quei agnelli che cosa rappresentano? Gli agnelli più belli e grassi che simboleggiano formare studenti dell'insegnamento spirituale ben istruiti. Quando Gesù ci dà la chiave di questo passaggio, di quel versetto, quando dice io sono il buon pastore, il buon pastore offre la vita per i suoi agnelli. Gli agnelli sono i discepoli, gli apostoli, gli studenti spirituali. Offrire Dio gli agnelli, infatti gli agnelli più grossi, più belli, più salutari, simboleggia istruire bene le persone, istruire bene i nostri studenti e per offrirgli a Dio qualcosa che Dio possa usare per manifestare, per espandere il suo regno in questo piano fisico. Perché dobbiamo ricordare sempre, soprattutto quelli che siamo comunicatori dell'insegnamento spirituale, che gli studenti non ci appartengono, non sono una proprietà nostra, ma appartengono ai maestri, appartengono a Dio. E il meglio che può accadere è che qualcuno dei nostri studenti possa essere di utilità a Dio o al maestro. Questo faceva Abele. La Bibbia dice Caino ne fu molto irritato e il suo volto era abbattuto. Il Signore disse allora a Caino, Perché sei irritato e perché è abbattuto il tuo volto? Se agisci bene, non dovrai forse tenerlo alto? Ma se non agisci bene, il peccato è accovacciato alla tua porta, verso di te e il suo istinto, ma tu lo devi dominare. Caino era abbattuto perché? Forse perché era pieno di invidia verso Abele. O io direi che è possibile anche che fosse pieno di risentimento verso Dio che rifiutava le sue offerte e accettava invece quelle di Abele, del suo fratello. Era arrabbiato, ma Dio, osservate, Dio gli disse Ma se non agisci bene, il peccato è accovacciato alla tua porta, verso di te e il suo istinto, ma tu lo devi dominare. Cioè, le avverte, avverte Caino che il peccato si avvicina, ma che lui è in grado di controllare la sua natura emozionale, controllare quei pensieri negativi. Peccato è una parola che significa errare. Quindi, Dio avvertì, Caino, controlla, domina i tuoi pensieri, domina i tuoi sentimenti. Io, Dio, ho creato l'essere umano alla mia immagine e somiglianza, affinché possa dominare gli uccelli del cielo, i pesci del mare, le bestie della terra. Ricordate, dominare significa controllare gli uccelli del cielo, controllare i pensieri, le idee dove fissiamo la nostra attenzione. Controllare i pesci del mare e controllare i nostri sentimenti, i desideri, cancellare e trasmutare quelli che non sono buoni. E anche controllare il nostro corpo fisico, non fare un'azione che possa danneggiare gli altri. Peccato che Caino, alla fine, non sentendo ciò che dice Dio, cade, no? Caino, che è materialità, impegno sociale, lavoro, fare soldi, apparire buono agli altri, uccise Abele, che è bontà, la spiritualità. Caino, uccide Abele, questo è come lasciare l'insegnamento o la vita interna per una carriera, per il posto di lavoro o la reputazione che ci può offrire certa sicurezza, una sicurezza che non è vera perché alla fine tutto scompare. Come vi dico, questo non vuol dire che voi dovete rinunciare al lavoro, rinunciare alla casa, rinunciare a una carriera. No, queste cose infatti oggi sono importanti, ma quello non può essere l'obiettivo della vostra vita. Ricordate le prime parole della Bibbia, Dio in principio. Al primo posto deve trovarsi sempre Dio. E dopo, la carriera, o il lavoro, oppure la famiglia, voi desiderate, usate il discernimento e mettete ogni cosa in ordine, ma sempre il primo posto appartiene a Dio. E voglio finire la lezione di oggi con questa immagine. Era a New York, un mese fa più o meno, e visitando il Museo Metropolitano d'Arte di New York, ho trovato questa statua di George Barnard chiamata Lotta delle due nature nell'uomo. L'autore è l'opera più famosa di questo scultore che diceva di sentire che c'erano due uomini dentro di sé, cioè quello è l'essere superiore e l'essere inferiore. Il Cristo interno è la personalità. Il Cristo interno è quella parte spirituale, la coscienza che ci permette di renderci conto, essere consapevoli delle cose buone che dovremmo fare, qual è il nostro dovere. Invece l'essere inferiore, raffigurato dall'uomo sdraiato, sono i nostri desideri egoistici, l'ignoranza, l'illusione, cadere nella tentazione per avere dei pensieri, sentimenti negativi. E c'è un pipistrello, osservate, un pipistrello nel braccio sinistro della figura inferiore che rappresenta l'oscurità in cui è immersa la natura inferiore dell'essere umano. Ma l'essere superiore, simboleggiato dall'uomo in piede, calpesta, calpesta quel pipistrello, calpesta l'oscurità, la negatività. E quel dovrebbe essere il nostro atteggiamento, essere in grado, attraverso le osservazioni, di rendersi conto quando appare il pipistrello. Il pipistrello dell'odio, il pipistrello della paura, il pipistrello dell'egoismo, il pipistrello del pensiero negativo, pensare alla malattia, pensare alla povertà, giudicare gli altri. E immediatamente calpestare, calpestare la negatività, che è come dire, questo non lo accetto, non lo voglio, né per me, né per nessuno. Io sono amore, io sono positivo, la verità del mio vero sé è positività, felicità, armonia, salute. Cari amici, siamo arrivati alla fine di questa attività, vi ricordo, con il favore di Dio, che sabato prossimo ci vedremo, faccia a faccia, con il favore di Dio, e alla sala dell'hotel Eurostars, via nazionale 46, a Roma, vicino alla stazione Repubblica, anche vicino a Termini. Vi aspetto anche, faremo ovviamente la trasmissione, per chi si trova in un'altra città. E vi ricordo anche che è importante, le autorità sanitarie richiedono questo, esibire il Green Pass e anche l'uso della mascherina. Speriamo che presto possiamo liberarci dall'uso della mascherina, anche. Cari amici, sono Fernando Candiotto e vi ho parlato dalla città di Prato, in Toscana. Ci vediamo settimana prossima, sabato prossimo, a Roma. Un abbraccio grandissimo, che l'Arcangelo Michele vi protegga e l'amata presenza di Dio, io sono scarichi su di voi. La sua saggezza, la sua protezione, il suo amore e la provvidenza, la provvista illimitata di ogni cosa buona e perfetta. Grazie Padre.